Ciao a tutti ragazzi da Chiao, bentornati o benvenuti qui sul mio canale di Idalit. Come avrete visto dal titolo, oggi video ricetta. Questa è una ricetta cinese, della tradizione cinese casalinga. Infatti gli ingredienti sono veramente pochi e semplicissimi. Oltretutto è adatta ai vegetariani e ai vegani, quindi se siete curiosi di scoprire cosa combinerò con due cetrioli, due spicchi d'aglio, eccetera eccetera, continuate a guardare questo video. La ricetta è assolutamente adatta anche all'estate, infatti non dovete cucinare nulla, è tutto freddo, quindi direi che è perfetto, sia come contorno che come antipasto o come un piatto di portata per chi appunto non mangia carne. La prossima volta voglio fare qualcosa con le patate, quindi se siete curiosi vi ricordo di iscrivervi al mio canale, lasciarmi già un bel like, così l'algoritmo di YouTube si dà una svegliata e mi fareste un sacco piacere. E niente, lasciatemi tanti tantissimi commenti qui sotto, fatemi sapere cosa ne pensate di questa ricetta e della prossima. Niente, allora io vi lascio al video, ci vediamo dopo, ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Wow. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.